A Taranto torna a riunirsi la cabina di regia per la sicurezza nelle campagne e lavoro nero in agricoltura. Dopo il recente episodio di cronaca che ha visto una nuova vittima struncata da malora mentre era a lavoro nei campi, il prefetto Donato Cafagna ha inteso convocare con urgenza la riunione in considerazione anche dell'approssimarsi della vendemmia e di altre attività stagionali e agricole per approfondire tematiche riguardanti la sicurezza e la tutela del lavoro nel settore agricolo. Inevitabile l'intervento dei rappresentanti sindacali al fianco delle maestranze che hanno sollecitato maggiori visite mediche per i lavoratori dei campi invitando anche a prevedere un elettrocardiogramma per chi lavora in determinate condizioni. Presente anche la voce delle imprese con il presidente di Confagricoltura Taranto Luca Lazzaro. Io credo che il lavoro in agricoltura sia un lavoro complesso e che vada seguito in maniera attenta e ovviamente le nostre aziende fanno la loro parte, noi siamo a fianco delle aziende appunto per fare in modo che possano seguire al meglio tutta la legislazione, una legislazione complessa non semplice e però oggi ancora di più a seguito di tutta una serie di norme che sono intervenute ultimamente rispetto alla responsabilità dei dettatori di lavoro rispetto all'osservanza di queste norme ancora di più ci preme seguire con attenzione questo tipo di attività.